Così per le autostrade? Le autostrade penso che la vera soluzione sia quella assieme a Deborah Seracchiani e Ugo Rossi e quindi alle altre due realtà con le quali condividiamo strategie di dar vita a una holding autostradale del nord-est. Abbiamo dei pezzi di autostrade, potremo veramente lavorarci su questo tema.